Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nintendo ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento di sistema per la Switch, che raggiunge così la sua versione 11.0. Il sistema operativo della console, a mio avviso, è uno dei grandi colli di bottiglia della piattaforma, e nonostante ritenga la Switch una macchina perfetta per le mie esigenze da videogiocatore, è innegabile che dal lato esperienza utente ci siano alcune mancanze imperdonabili e totalmente anacronistiche. Con questa nuova major update, però, Nintendo sembra essersi svegliata e sono state aggiunte delle funzioni molto interessanti, mentre di altre continua a non essercene traccia. Prima di passare in rassegna a tutte le novità della patch 11.0, come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi video. Iniziamo! Partiamo dalle aggiunte minori. Oltre alla generica dicitura, dove viene sottolineato che l'esperienza è stata migliorata tramite qualche fix e l'eliminazione di bug di sistema, a fare la loro comparsa sono 12 nuove icone utente ispirate ai classici giochi di Super Mario. Un'aggiunta gradita, ma che di sicuro non è il fulcro di questa patch. Sempre tra le aggiunte minori, figurano anche la possibilità di dare un nome ai differenti preset per il rimappamento dei tasti e il supporto alla lingua portoghese e brasiliana. A migliorare leggermente l'esperienza con il caotico eShop, c'è ora la possibilità di decidere la priorità dei download in coda, quando più software o update vengono scaricati contemporaneamente. La selezione è abbastanza intuitiva e avviene tramite il menu opzioni di download. Un grande passo in avanti è stato fatto anche con la condivisione delle foto e video catturati in game, che ora, piuttosto che rimanere blindati all'interno dell'Sd, possono essere trasferiti anche su altri apparecchi. Infatti è possibile avviare tramite QR code i contenuti multimediali al nostro smartphone, oppure tramite la connessione USB trasferire direttamente i dati all'interno del nostro PC. Da notare che la connessione Switch Computer deve essere fatta direttamente con la console e non può passare attraverso le prese USB presenti sulla dock. Dal punto di vista social e possibilità di interazione con i propri amici è stato fatto un bel passo in avanti, più o meno. Certo, non si possono ancora creare party chat o voice chat direttamente da console, ma almeno adesso abbiamo la scheda di tendenza accessibile dalla schermata del profilo utente. La nuova sezione, Giocati dagli amici, permette infatti di avere una rapida visualizzazione di quelli che sono i titoli più gettonati tra i propri contatti e anche di vedere una classifica per ogni singolo gioco degli utenti che hanno collezionato più ore di gameplay. Un'aggiunta sicuramente molto gradita. Un miglioramento riguarda anche la gestione dei salvataggi in cloud, feature disponibile solo per chi ha attivo l'abbonamento a Nintendo Switch Online. Ora sarà possibile trasferire con facilità i propri salvataggi di gioco su diverse console se il proprio account è attivo su più Switch. La possibilità di riprendere le proprie partite avviene tramite il download in automatico dal server in cloud, una funzione comodissima per chi possiede più di una console. Ma la piccola grande rivoluzione di questa 11.0 è senz'altro l'aggiunta di una nuova macro area raggiungibile dalla schermata home, la sezione dedicata interamente al Nintendo Switch Online. Una pagina che è una sorta di zona ibrida a metà strada tra l'eShop e la sezione notizie. C'è da dire che effettivamente una scheda del genere può tornare molto utile e racchiude in poche tab tantissime informazioni fondamentali per gli abbonati al servizio a pagamento che altrimenti sarebbero state di difficile scoperta nella navigazione tra eShop e le app dedicate ai singoli servizi. Grazie alla semplice impaginazione è possibile da subito controllare lo stato della propria iscrizione, così come accedere a una rapida panoramica delle funzionalità dell'online su Switch. Ad esempio, nella sezione gioco online si può consultare la lista dei giochi che usufruiscono del multiplayer in rete, così come la sottocategoria dei giochi che sfruttano le potenzialità dell'app dedicata su smartphone e di quelli che consentono di avviare una chat vocale. Nella zona NES e Super NES i titoli sono finalmente organizzati in modo più organico ed è possibile ordinare i giochi secondo specifici filtri, come l'anno di pubblicazione o la piattaforma di riferimento. Inoltre è possibile consultare lo stato dei propri salvataggi in cloud, così come le offerte esclusive per i membri abbonati. Insomma, di aggiunte ce ne sono state parecchie ed alcune modificano radicalmente l'esperienza utente. Resta il fatto che molte di queste feature dovrebbero essere lo standard di qualsiasi sistema operativo e non comparire fuori dal nulla a quasi 4 anni dal rilascio della console sul mercato. Se da un lato ho definitivamente abbandonato le speranze di vedere su Switch il proliferare di app di terze parti che permettano di sfruttare le potenzialità della console ben oltre il gaming, dall'altra preferirei che questa attenzione si risolvesse allora in una maggiore cura dell'esperienza utente. Ma alle porte del 2021 non è ancora possibile mettere temi personalizzati, l'eShop è un incubo da navigare e mancano alcune funzioni base per il gioco online che minano pesantemente il divertimento su libri da Nintendo. Per me quindi le aggiunte di questa patch 11.0 sono molto gradite, ma purtroppo manca ancora una visione di fondo da parte di Nintendo che sia in grado di rassicurare l'utenza con un miglioramento organico del proprio sistema operativo. E voi poracci cosa ne pensate? Siete soddisfatti di questo nuovo firmware? Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Patch, Michele 11.0, ciao!